Pioggia, vento, freddo, condizioni climatiche, veramente da autunno, siamo in autunno, ma bisogna comunque allenarci in qualche modo. E' la stagione ideale per cominciare ad allenarsi sui rulli, ma non dimentichiamoci che esattamente come negli allenamenti fuori, in strada, all'aria aperta, anche sui rulli si suda e si suda anche tanto. Bisogna assolutamente stare attenti a integrare adeguatamente gli elettroliti, i liquidi, quindi ricordiamoci di bere più o meno un litro di sali, di acqua, durante un'ora di attività medio-intensa sui rulli. Il prodotto che utilizziamo noi di Leppinger Team si chiama EFS e contiene una quantità incredibile di elettroliti, un po' di calorie, in maniera da avere comunque un po' di benzina per poter fare i propri allenamenti, ma soprattutto ha un gusto eccezionale, molto consigliato. Andiamo!